Le caratteristiche dei casi di coronavirus in Toscana fotografate dall'Agenzia Regionale di Sanità che ha analizzato i dati che gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asle hanno informatizzato sulla piattaforma messa a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità. Nella nostra regione i primi casi di Covid-19 risalgono alla fine di febbraio e c'è stato un andamento tendenzialmente in crescita delle nuove diagnosi fino al 3 aprile scorso, condizionato soprattutto dall'aumento del numero dei laboratori impegnati nel processare i tamponi e dall'incremento dell'offerta stessa dei test. L'età media dei contagiati risulta in linea con il dato nazionale 61 anni contro 62 e anche in Toscana il virus colpisce prevalentemente la popolazione matura ed anziana. Solo il 3% dei positivi a meno di 18 anni, mentre la fascia di età in cui ricade la maggior parte dei casi è quella che va dai 51 ai 70, seguita da quella degli ultrassettantenni. Circa un terzo dei casi positivi al virus è stato ospedalizzato, mentre l'8,8% dei contagiati è stato ricoverato in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, oltre l'80% hanno riguardato la popolazione con più di 70 anni, in cui la letalità è pari al 12,1%. Di questi, almeno 4 su 5 avevano una patologia cronica pregressa concomitante. Interessante, infine, l'evoluzione dello stato clinico dei pazienti nel corso delle diverse settimane di emergenza coronavirus. Le persone con sintomi lievi o asintomatiche sono passate dal 46% dei casi positivi nella settimana dal primo al 7 marzo, a più del 75% dei casi emersi nell'ultima settimana di aprile, un dato che, visto in prospettiva, appare molto incoraggiante.